Finalmente mi sono deciso a fare un video di presentazione di questo canale. Dopo molti anni ho deciso di presentare questo canale, anche perché da oggi in poi il canale assumerà una caratteristica un po' diversa. Se finora ha avuto un intento prevalentemente divulgativo o anche di approfondimento di alcuni temi di ordine schiettamente filosofico, a partire da oggi esso assumerà una veste più che altro antologica. Cioè io sceglierò alcuni brani di testi di autori che hanno colpito la mia attenzione, che hanno suscitato in me delle riflessioni, leggerò questi brani e poi cercherò di commentarli, riducendo il più possibile il mio commento all'occasione appunto che ha suscitato la lettura di questi brani e alle riflessioni appunto che essi mi hanno suggerito. Quindi si tratterà sostanzialmente di leggere i brani e di commentarli brevemente. L'altro cambiamento riguarda proprio i brani che non saranno esclusivamente di natura filosofica, non si tratterà quindi di testi esclusivamente filosofici, ma questi testi potranno essere anche testi narrativi o poetici o eventualmente anche testi di natura scientifica o altro. Non si tratterà di, come dire, di riflessioni sistematiche, ma i testi verranno scelti in base ai miei interessi, ai miei interessi occasionali e all'importanza che la lettura di questi testi avrà per me rispetto appunto alla mia sensibilità, rispetto a quello che colpirà in un certo senso la mia attenzione. Ecco la cosa che mi preme sottolineare è che i video saranno più che altro delle letture, delle letture seguite da un mio breve commento. Quindi diciamo così che lascerò la parola agli autori più che cercare di interpretare il loro pensiero. E il mio intervento sarà un intervento estremamente libero, cioè io cercherò in qualche modo di, come dicevo poco fa, di spiegare il motivo per cui quel brano, quel pensiero, quel testo ha suscitato la mia attenzione e che tipo di riflessioni, che tipo di pensieri mi ha suggerito. Ecco un'altra cosa che mi preme di dire e che certamente avrà notato chi segue il canale fin dall'inizio è il carattere disadorno di questi video. Non ho mai accolto i suggerimenti che mi arrivavano da YouTube di dare al canale una veste, diciamo così, più accattivante e non soltanto per la mia pigrizia, che pure c'è, quindi dare al canale una veste più accattivante che significherebbe perdere un po' di tempo, ma anche e soprattutto per una precisa scelta e questa scelta, diciamo così, può essere definita come un rifiuto, il rifiuto di quella che io chiamo l'ideologia mercantile dell'apparenza. E' sotto gli occhi di tutti che oggi ogni cosa può diventare un prodotto vendibile sul mercato, compresi i video di YouTube, compresi appunto i canali e la scelta che ho fatto è appunto quella di andare in un certo senso in una direzione opposta, cioè non mi interessa il numero di iscritti che posso catturare attraverso i miei video, ma mi interessa semplicemente condividere con voi con chi ha una sensibilità simile alla mia, con chi nutre, diciamo così, degli interessi che sono simili agli interessi che mi spingono, mi stimolano a condividere con voi determinate riflessioni. Ecco questo è quello che, come dire, sta alla base di questo canale. Inizialmente i video iniziali hanno, diciamo così, un carattere manualistico, nel senso che si riferiscono anche al periodo in cui insegnavo nei licei e quindi, diciamo così, avevano una loro utilità pratica, continuano naturalmente ad avere un'utilità pratica per tutti coloro, studenti o semplicemente appassionati di filosofia che vogliono avere un approccio, diciamo così, non approfondito ma tuttavia neanche troppo sciatto alle questioni di ordine filosofico. Bene, dunque, ribadisco questo rifiuto dell'apparenza nel senso che il canale non avrà mai, diciamo così, una veste che tenda in qualche modo a dare più importanza all'involucro che non al contenuto. spesso noi vediamo dei prodotti, ecco, tra virgolette, che si presentano esteriormente molto ben fatti ma che, almeno nei casi più estremi, hanno dei contenuti assolutamente insignificanti. Bene, con questo direi che ho terminato. il prossimo video molto probabilmente sarà ancora su Michel Foucault e in modo particolare leggerò alcuni brani dell'ultimo corso che Foucault tenne al Collège de France nel 1984 e morirà poi di lì a un paio di mesi e che riguarda proprio il tema della filosofia. Ecco, Foucault ricostruisce un po' alcune direttive della filosofia a partire dalle origini e ci dà un quadro, secondo me, molto interessante di che cosa noi possiamo intendere con la parola filosofia. Vi do appuntamento al prossimo video e ringrazio tutti coloro che trovano ancora di qualche interesse questo canale nonostante, appunto, che esso perderà, diciamo così, il suo carattere divulgativo e strettamente filosofico. Arrivederci.